buon pomeriggio amici eccomi qui tornati con un nuovo video mettiamo un po più di luce ecco qua allora ragazzi si comincia di nuovo non è manco finita appena finita diciamo le coppe sono appena terminate per questo turno quindi si riparte subito questa settimana con la non aggiornata di serie a cominciamo comunque col verona che incontra il sassuolo il verona ragazzi è una squadra un po particolare perché non sta facendo tanto male a parte la sconfitta contro il napoli ma si sapeva però ha fatto bene anche con del napoli perché l'ho vista la partita quindi in casa dovrebbe diventare un pochino più ossico d'altro canto il sassuolo ha perso la partita con l'inter poi conta che c'è una partita in meno quindi vuol cercare di comunque di vincere la sta partita quindi non sarà facile neanche quella manco posa solo quindi non mi so sentito di mettere un pronostico diciamo ho messo under 4 e mezzo io non so se faranno queste squadre piccole certe volte fanno mille gol certe volte non le fanno proprio quindi ho messo ho deciso così andiamo avanti con lecce juventus che si gioca domani alle ore 3 lecce che ha pareggiato l'ultima partita contro il milan trova una juventus comunque in forma ma anche a fatica della coppa quindi non so la juventus sicura la stra favorita per questa partita ma dovrebbe stare al tenda lecce perché lecce può diventare molto osse che in casa ma vedremo comunque come andrà a finire ma secondo me comunque si porterà a casa questi tre punti quindi due andiamo avanti con l'atalanta udinese l'atalanta che incontra l'udinese gioca domenica l'atalanta che sta in una buona posizione di classifica anche l'atalanta fatica la champions league l'udinese ha anche bisogno disperato di punti quindi deve cercare di vincere questa partita però l'udinese è inferiore all'atalanta poi in caso contrario c'è anche giochi in casa quindi l'atalanta credo che qui la vinca quindi uno poi andiamo avanti con spal napoli lo spal che incontra un napoli molto avviato napoli molto forte un napoli che ha gran voglia di vincere un napoli che deve superare questo ostacolo dello spal perché lo spal è terz'ultima ha bisogno urgentemente di punti importanti e non vuol farci scappare questa opportunità però trova il napoli purtroppo però il napoli è la stra favorita per questa partita il napoli si trova in quarta posizione quindi vuol cercare di rimontare sulle altre in su quindi credo che qui vado un po' più per il napoli però attenzione allo spal 2 andiamo avanti con il roma milan la roma che dopo la fatica europea incontra il milan il milan di pioli non è male diciamo che ha cambiato qualcosa pioli in questo milan perché contro il leccio ha giocato molto bene anche se si è fatto mettere quelle due papere però non so il milan è insicuro qui sarà una bella partita quindi il milan qua se vuol vincere deve darsi tanto da fare perché giocare all'olimpico non è mai facile la roma anche ha bisogno di punti quindi la roma più o meno se nella stessa situazione ma anzi non è roma sta messa meglio quindi non do un prossimo fisso ma metto gol che entrambe le squadre segnano andiamo avanti con fiorentina lazio questo è un'altra partita ragazzi tosta domani questo gioco domenica sera allora la fiorentina sta andando molto bene la lazio fatica europea ma mi pare l'ultima partita l'abbia vinta se non sbaglio non mi ricordo comunque la lazio se la vedrà nera a firenze se la vedrà nera ma nera 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 quindi io non so come andrà a finire non m'ho messo sul lato fisso ma metto gol anche qui andiamo avanti con genoa brescia il genoa che appena cambiato allenatore il grande tiago motta grandissima fortuna veramente tiago motta non so cosa farà questa sua prima partita la ora sicuramente vincere il genoa è un pochino più favorito rispetto al brescia il brescia sta messo un pochino meglio ma il genoa ha bisogno disperato disperato di punti e credo che qui farà la sua figura quindi ho messo 1x andiamo avanti col bologna samp d'ora nella samp ancora non è partita non è granata e poi va a giocare uno stadio come dal bologna proprio uno stadio veramente ossego anche lì il bologna sta messo anche abbastanza bene in bologna vuole cercare di prendere qualche punto in più la samp vuole vincere la sta partita perché la samp ci tiene tanto però io do un pronostico a favore del bologna 1x torino cagliari e questa è bella da vedere perché il cagliari mi pare che quinta mi pare che quinta il quali sta messo molto bene il torino è un pochino più giù non mi ricordo dove però deve cercare di vincere questo torino perché se questo torino continua così scende ancora più giù devo dare un pronostico ragazzi 1x io da 1x perché per me vincerà il torino o pareggia secondo secondo me poi andiamo avanti con il pronostico ragazzi di inter palma allora ragazzi l'inter dopo la fatica europea e grazie a maddio vinta conte come ho visto ha fatto un po di turno per un po di riposo per i giocatori perché poi martedì si gioca un'altra volta quindi mi pare che abbia messo defraico di bastoni candreva pesino non c'è sì più o meno la solita formazione tranne visino bastoni pesino defrae e mi pare che anche lucacus sarà a riposo quindi all'altro canto non so conte vuole la continuità quello che c'è la fatica europea ma non è una giustificazione a maggior ragione con questo stimolo bisogna andare avanti a vincere ragazzi quindi se vuoi ottenere il passo alla juventus dobbiamo vincere questa partita e speriamo bene perché poi il parma si ha messo anche un pochino bene in classifica ma il parma è difficile anche se ha problemi d'attacco però è difficile però qui metto un bell'uno tondo tondo vedremo comunque ragazzi puntate 5 euro su questo bolletto si vince 95 ore 47 con questo ragazzi chiudo questo video e ci vediamo domani sera per questa contento o incazzamento vedremo a malà